buongiorno 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 tu sei divertito ieri sera si quanto tanto e qual è stata la canzone sua preferita tutta la notte la sua preferita è vola colomba e vola colomba biancavola nilla pizzi sarà anche vero ma adesso fermo ho detto che oggi qualcuno offre la pepe perchè è il compleanno si è vero verissimo è vero verissimo con la toffanina verissimo grazie grazie